Weee! Ciao brutto camperista a pezzi! Che fai? Hai rotto il camperone e non sai come passare il tempo? O hai appena visto il video sulla residenza fittizia e vuoi diventare anche tu un barbun come noi? Vuoi vivere in camper? Ma chi te lo fa fa? Stiatene a casa! Oggi voglio parlarti della sosta libera. Tema delicato ma siccome è libera sarò libero di dire la mia opinione. La palissiano che dici? Tema delicato, dicevo, ma anche molto importante non solo per i fulltimers come noi, bensì per tutta la nutrita schiera dei camperisti, indifferentemente dal fatto che abbiamo un motorhome, un furgonato, o la panda, sosta libero, ovvero un parcheggio al di fuori delle aree preposte per i camper e le autovetture. Vedremo che in Italia è tollerato, in altri stati permesso, in altri severamente proibito. Vedremo anche perché abbiamo scelto questa soluzione e come sarebbe bene comportarsi per evitare di scassare la minchia e rispettare i luoghi in cui ci si ferma. Prima di tutto però mi presento per i nuovi iscritti. Sono Armando e da sette anni vivo con mia moglie in un camper Westfalia. Il canale è realizzato in collaborazione con Alberto di Fulltimers Italia Vivere Viaggiando. Tutti i link in descrizione. Voglio anche ringraziarvi per il sostegno che ci state dando. C'è molto lavoro dietro a questi video ma noi ci divertiamo un sacco e i vostri like, le vostre iscrizioni e le condivisioni ci danno un ulteriore spinta. Notiziona. In Scozia, unico paese in Europa, la sosta libera è consentita. Da tutte le parti, ma proprio tutte. E non solo la sosta libera, anche il campeggio. Catena proprio. Siamo stati lì nell'estate del 2018, posti magnifici davvero. Abbiamo visitato in circa tre mesi gran parte del territorio spingendoci fino alle ebredi e all'isola di Sky. Se volete stare tranquilli lì di spazio ce n'è per tutti. Soprattutto nelle Highlands, dove c'era Highlander. Remember the movie? E allora oggi ci vediamo la cartolina dalla Scozia. Te piaciuta la cartolina? No? E allora faccela te. Entriamo diretti a gamba tesa sul tema della giornata, la sosta libera. Premesse e leggi. Prima di parlare di sosta libera cerchiamo di capire che cos'è un parcheggio e come vengono classificati i camper nel codice della strada. Tu mi dirai che me pigli per deficiente? Assolutamente no! Però è sempre meglio mettere in chiaro le cose, tanto per non prendere luciole per lanterne. Un parcheggio è uno spazio pubblico o privato riservato alla sosta degli autoveicoli. Ma davvero? Secondo il codice della strada un autocaravan o camper è equiprato a un'autovettura, perciò è sottoposto alle medesime normative. Come al solito in descrizione troverai le leggi e gli articoli di riferimento. Questa cosa è molto interessante perché nessuno può impedirci la sosta per il semplice fatto che siamo un camper, così come nessuno può impedirci di accedere ad un parcheggio con un limitatore d'altezza. La cosiddetta legge Fausti infatti dichiara illegittime tutte le ordinanze che limitano la circolazione o la sosta ai camper che rispettano le seguenti regole. A. Il motore deve essere spento. Sti cazzi. B. Nulla deve aumentare il volume laterale del mezzo. Oblò a compasso, scalini, tendalino, portiere aperte. È invece ammessa l'apertura di oblò superiori e tetta soffietto. Ambedi che culo che c'ho. C. Non si devono emettere deflussi propri, per cui no frega acceso, no stufa o boiler a gas, no generatore e no riscaldatori ausiliari. D. Non si possono utilizzare piedini o cunei di stazionamento. Capito maniaci dal camper in bolla? E. Se c'è una segnaletica orizzontale il mezzo non può fuoriuscire da essa. Provace col camperone da 8 metri. F. Non si può appoggiare nulla al di fuori del camper. Praticamente non si può affancazzo. Ma è così. Li mortacci. Cominciamo quindi a capire che, almeno in Italia, soggiornare all'interno del proprio mezzo è praticamente impedito. Te l'avevamo accennato nel video fatto al Salone di Parma sul mezzo ideale per vivere da full timers. E te lo metto qua. Ma allora, come se può fa e mo te lo dico. Comportamenti corretti. Mi spiace, brutto pezzo di camperista, ma vivere in strada non è permesso dalla legge italiana. Ecco perché qui dobbiamo parlare di un altro discorso. Il buonsenso. E questo vale anche fuori dall'Italia. Il buonsenso esula dalle leggi. Mi sono più anarchico di Bakunin. Ma permette che la sosta libera venga tollerata. Se siamo in zone poco frequentate e in periodi dell'anno non di grandi immigrazioni del turista medio, allora possiamo sperare di non essere sanzionati. Dobbiamo però sempre rispettare il decoro, non eccedere stravaccandoci con tutta la famiglia in mezzo al parcheggio e tenere pulito. Troppe volte ci è capitato di vedere camperisti accampati con il tendalino aperto, stuoi appoggiati al suolo, biciclette, motorini posteggiati vicino all'autocaravan, sedie e sdraio al sole, tavoline e grandi banchette allestite con tanto di griglia e generatori accesi. Megoyoni. In questi casi le forze dell'ordine non possono che intervenire, sanzionando i trasgressori e invitandoli a rientrare nei ranghi normativi. Ci sono altre due cosette da ricordare. Anche la ciotola del cane o le scarpe appoggiate al di fuori del mezzo possono configurare il reato di campeggio abusivo. Qualsiasi sosta prolungata oltre alle 48 ore è da considerarsi occupazione di suolo demaniale, quindi meglio spostarsi. Un consiglio, basta muoversi di qualche metro. Le pedine. Nei centri commerciali o nei supermercati, che sono parcheggi privati, queste normative non si applicano. Ma davvero vuoi dirmi che te fermi col camperone in quei postacci senza addio? Anche nelle aree di sosta si può solo sostare e non cappeggiare. Quando vedo quei bei pensionati seduti fuori dai loro bestioni bianchi allineati, mi sembra di tornare alla fiera di Parma. Ma che c'è state a fare lì? Boh. Nei camper service invece si può stare solo per il tempo necessario per il carico e lo scarico dei liquidi. Tutto chiaro? Brutto sparchiacione? Quindi non me sta lì a bivacca o peggio a lavare il camperone con il tubo per sciacquare le nere. Tacci. Certo. Inutile dirlo. Se siamo in mezzo al bosco, in un prato, comunque dove l'afflusso è molto molto basso, allora a qualche piccola libertà possiamo prendercela. Io non nascondo di aver aperto il tendalino, magari messo fuori anche un paio di sedi o il tavolino, ma di certo non lo faccio dove so di ricare fastidio al decoro pubblico o di occupare spazi non consentiti o di dare l'impressione di appropriarmi di territorio pubblico. E tutto questo? Comunque. Sempre però avvitando di lasciare tracce del nostro passaggio. Capito? Se ti vedo sporca, vengo e te buco le gomme. Sia ben chiaro, nessuno qui sta accettando acriticamente le norme del codice della strada come corrette e giuste, ma sta alla coscienza del singolo individuo la decisione di applicare una forma di disobbedienza civile riguardo leggi che appaiono come ingiustificate o eccessive. Io te lo dico, poi tu fai come ti dice la tua brutta coscienza. In fin dei conti, se non danneggiamo alcuno, perché dovremmo restare chiusi in camper a cucinare come branzili al cartoccio? Ma che ne so! Restiamo dell'idea che sia sbagliato impedire alle persone di vivere fuori dagli schemi out of the box come direbbero Maregani e che una forma di controllo sia la base di certe ordinanze e disposizioni. Tuttavia è indubbio che se tra i viaggiatori vige la maleducazione e il non rispetto del buonsenso allora le cose si fanno molto più difficili e le forze preposte si vedono costrette a dare un giro di vite con le naturali conseguenze che ciò comporta. Rispetto del territorio e sostegno delle economie locali restano per noi una base imprescindibile per poter vivere questo tipo di esistenza assieme ad una forma di pudore che purtroppo non appartiene a tutti. Ti racconto due aneddoti, ma ce ne sarebbero tantissimi. Uno è capitato a me, un altro ad Alberto. In Marocco, prima del 2015, fare Sosta Libera era la cosa più facile di questo mondo. Purtroppo schiere di pensionati nulla contro il pensionato ovviamente che ha il diritto di godersi il meritato riposo si stabilivano per mesi a bordo spiaggia spesso incuranti del territorio e magari con la stiva piena zeppa di cibo e vivande senza acquistare nulla dai piccoli commercianti. Al massimo se compravano le ciabattine capunta ovviamente la polizia a un certo punto ne aveva i cazzabibbi pieni di questi comportamenti e così ha dovuto prendere provvedimenti sgommerando tutti e invitandoli ad andare in campeggio. E te credo Se ci richiamino una nazione, a mio parere è il nostro dovere non solo godere delle bellezze del posto rispettandolo e tenendolo pulito ma anche aiutare le economie locali evitando la grande distribuzione e sostenendo i piccoli esercenti. Non vi dico la situazione in Portogallo in cui i viaggiatori spesso stagionali rubano l'acqua dalle case private o cacano in giro lasciando i loro bei ricordi sul bordo delle bellissime scogliere a picco sul mare. Qui sopra un video in inglese del canale Westfalia Digital Nobads che giramo due anni fa in Portogallo e che parla proprio dei regalini organici lasciati dagli incivili. Guardatelo! Alberto invece se ne stava tranquillo da qualche giorno in un prato sulle colline del centro Italia. Anche se il sole batteva come un dannato il poveraccio evitava il più possibile di aprire tendalino o oblò laterali o di disporre tutto l'armamentario bellico del campeggiatore fuori dal suo mezzo. Ad un certo punto vede un camper passare. Il conducente lo note ovviamente nonostante lo spazio fosse enorme si parcheggia a pochissimi metri da lui. Ma perché? Come non bastasse inizia subito a tirare fuori tavolino, barbecue, tappeti, giochi per bambini in sdraio occupando una superficie più grande di Central Park a New York. Ovviamente passata mezz'ora la polizia comunale è giunta sul luogo e i turisti tedeschi in quel caso sono stati multati e invitati a smammare. Alberto che era a pochi metri non avendo commesso alcuna infrazione non è stato sanzionato tuttavia è stato gentilmente invitato a levare le ancore. E così per colpa di quei figli della pezza di pagano tutti. Insomma, se si fa sosta libera sempre a mio modesto parere oltre a essere educati è meglio farla fuori dai cojones. Diciamo lontano dal cosiddetto consorzio umano che non è il tomo consorzio. Vediamo quindi perché fare sosta libera e quali sono i vantaggi. Perché farla? Innanzitutto per noi full timer la sosta libera è dannatamente fondamentale. Perché io? Molte faccio da commercialista. Tu pensa ai campeggi che piacciono tanto a te. In alta stagione se arriva a 45-50 euro al giorno in bassa si può trovare qualcosa sui 15-20 euro? Facciamo la media 30 euro. Per 30 giorni a questo punto mi affetto un appartamentino in centro a Milano e vado a fare gli aperitivi con la Titti e la Patti. Devo dire noi in 7 anni siamo stati una quindicina di volte in campeggio e un paio in delle aree di sosta. Personalmente per me non è solo una questione economica si tratta di una prospettiva con cui guardo il viaggio un punto di vista amo scoprire luoghi che non siano strutture organizzate mi sentirai un po' come colui che si sposta di albergo in albergo senza conoscere nulla della vita locale il viaggio non è certo la meta. Ti ho già parlato nel primo video che ti metto qui di come a mio modo di vedere il viaggio sia anche la scoperta delle comunità locali l'immersione nelle culture del posto nei paesaggi e in ciò che ci circonda e che non è stato costruito a misura di turista. Una cosa che ho notato nel mio peregrinare è che le metropoli stanno sempre più diventando le une simili alle altre. Zara McDonald's Starbucks and company hanno sempre più preso il posto dei vecchi negozi tipici locali. Questo ha fatto sì che moltissimi centri di grandi capitali si assomigliassero sempre di più negli anni. Certo le differenze architettoniche sono rimaste ma questa forma di omologazione beh sta un po' sulle palle. Ecco perché anche nel viaggio preferisco dedicarmi alla scoperta degli aspetti più veraci e ancora autentici dei luoghi che visito e la salsa libera mi permette di farlo. Insomma a me piace incontrare le persone del luogo che te devo dire sarò un po' antropoloco 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 e non necessariamente il tedesco il danese l'olandese in camper quando sono che so in un villaggio dalla Romania. Certo c'è successo di fare amicizia con altri camperisti ma non è sicuramente lo scopo del nostro girovagare. Poi tu fai un po' quel ciuffolo che te pare. La sosta libera quindi per me è conoscere una geografia più veritiera oltre che le culture locali. Stare immerso nella natura di fronte all'oceano in riva al mare o a un lago o di fronte alle montagne o nei pressi di un fiume. Insomma non è che adesso voglio fare il fricchettone bellazio ma preferisco questo alle piazzole tutte belle organizzate pulite asettiche come lo sguardo del turista mordi e fuggi tuttavia la nostra prospettiva e anche il nostro modo di viaggiare sono cambiate durante gli anni è normale che sia così vedrai viaggiare è un continuo aggiungere piccole correzioni piccoli aggiustamenti e adesso ti spiego cosa ci è successo e perché una delle motivazioni per cui il nostro modo di vivere in viaggio è cambiato sono i cani le due bestiace che abbiamo con noi Ziggy dal 2015 e Aria dal 2019 nei primi due anni di vita abbiamo campeggiato meglio parcheggiato liberamente nei centri delle grandi città due mesi e mezza di Istanbul un paio di settimane ad Atene tra il 2012 e il 2013 per via di un lavoro che avevo con un cliente dell'epoca siamo stati praticamente in tutte le capitali europee tra cui Berlino Amsterdam Londra Parigi Vienna Praga e abbiamo la maggior parte delle volte parcheggiate in città dove ovviamente era possibile sostare liberamente senza grossi problemi con l'arrivo dei cani magari in un video vi racconterò le storie di Ziggy e Aria perché sono abbastanza singolari fammi sapere nei commenti se ti interessa si è deciso di comune accordo di evitare le grandi città sempre caotiche piene di macchine di traffico e prediligere luoghi in mezzo alla natura dove entrambi i cani potessero stare senza guinzaglio correre esplorare cacare insomma quelle robe che fanno i cani al contempo noi non dovevamo preoccuparci del traffico e di eventuali disagi che un quattroppateccanino non legato può provocare a se stesso e agli altri nelle città e questa è una delle prime ragioni il nostro modo di viaggiare è mutato anche grazie alla tecnologia nel 2012 c'era già il wifi ma da allora ad oggi sono stati fatti dei grossi passi oggi è molto più semplice trovare il wifi anche libero adesso abbiamo il nostro modemmino e non ci stanno problemi ma ancora mi ricordo come facevamo all'inizio a cercare reti disponibili visto che avevamo solo i nostri telefoni smartphone alla mano fermati qui no un metro avanti no un metro indietro scene degne da Mr. Bean ora anche grazie al progresso tecnologico e al miglioramento della trasmissione del segnale possiamo stare in luoghi anche abbastanza isolati senza avere particolari problemi di ricezione anche nel mezzo del Sahara quando siamo stati in Marocco nel 2015 riuscivamo a lavorare pur essendo proprio in mezzo alle dune alla sabbia perché c'era il segnale wifi queste due componenti hanno trasformato il nostro modo di viaggiare quindi tu brutto pezzo di camperista non credere che tutto si possa pianificare prima di partire perché tante cose gradualmente in maniera molto naturale cambieranno durante il viaggio a seconda delle situazioni che incontri e di ciò che succede quindi non te preoccupare oppure statene a casa con le pantofole ma torniamo al tema centrale sosta libera il plein air chiaramente la sosta libera presenta delle limitazioni che a mio modo di vedere sono date dal mezzo noi abbiamo optato per un furgonato più maneggevole e guidabile rispetto a un camper mansardato o semi integrali più lunghi, larghi ed alti non mi soffermo troppo su questi aspetti perché te ne ho già parlato approfonditamente nel video dedicato al mezzo per me migliore per vivere viaggiando e che lo trovi qui sopra con un puro piccolo come il nostro anche più piccolo di altri puri sacrifichiamo un bel po' l'abitabilità però possiamo infilarci un po' ovunque sentieri e strade sterrate o altri luoghi non accessibili ai bestioni bianchi alle ambulanze insomma inoltre siamo anche meno visibili e ciò ci rende più facile fare sosta libera non attirare l'attenzione è sicuramente un aspetto che a mio avviso va tenuto in grande considerazione ovviamente le scelte sui luoghi dove sostare aumentano ulteriormente quando si ha un mezzo a trazione integrale una 4x4 o un pick up con una cellula abitativa annessa o per i più audaci un Land Rover con la maggiolena la grandezza del mezzo quindi influisce su quello che è il ventaglio di scelte per la sosta libera più il mezzo diventa grande meno possibilità ci sono questo mi sembra anche abbastanza ovvio discorso a parte per gli Expedition Vehicle che però spesso hanno un mezzo ausiliario ma te l'ho già parlato nel video precedente vediamo ora dove fare sosta libera dove farla? ABP ci sono moltissimi posti in Europa con zone adebite alla sosta dei camper gratuita o privi di limitazioni in ogni parte del mondo poi le cose cambiano prendiamo ad esempio la Francia se vuoi andare nella costa sud la cosiddetta Côte d'Azur la costa azzurra dove peraltro la densità abitativa è altissima rispetto ad altre zone della stessa nazione è molto difficile trovare luoghi non a pagamento o in cui non sia vietato esplicitamente sostare con mezzi ricreazionali ah ti ricordo che almeno in Italia i limitatori d'altezza sarebbero illegali te lo dice proprio la circolare ministeriale che ho citato prima differente è la questione se ti dirigi un po' più a nord anche nella Provenza o nella lingua d'oca o in Aquitania mentre la Normandia è completamente camper friendly è molto aperta al turismo in camper ci sono dei bei parcheggi con aria e sosta carico, scarico, bagni tutto fronte mare e vicino alla spiaggia qualcosa esiste anche in Italia in Emilia Romagna in Friuli ma sono solo due esempi tra molti abbiamo trovato aria e sosta con tutti i servizi corrente gratuita e colonina wifi certo il bel paese non ha una cultura del plein air come la Francia o la Germania ma delle nostre normative e leggi abbiamo già parlato in Europa esistono luoghi come la già menzionata Scozia in cui non ci sono limitazioni di sorta oppure stati completamente contrari all'usanza della Libera come l'Olanda la Croazia e la Slovenia chiaramente lo ribadisco sta al buon senso di ognuno a capire come e dove fermarsi in inverno fuori stagione comportandoci con discrezione abbiamo parcheggiato in zone che in estate sono totalmente vetate i camper ci sono moltissimi metodi per trovare un luogo in cui sostare in Libera dalle app all'utilizzo di Google Maps in versione satellitare peraltro il mio metodo preferito ma di questo ne parleremo in un video apposito quindi resta con noi certo se a te piace andare a visitare grandi città beh potresti trovare un po' più di difficoltà a fare Libera a noi è successo delle volte di avere fortuna a Parigi ad esempio abbiamo trovato un luogo in centro in cui siamo stati senza seccature per giorni altre volte poche abbiamo dovuto optare per dei campeggi o scontrarci mica con le Molotov con le forze dell'ordine come nell'ultimo viaggio in Portogallo dove a causa di un turismo itinerante un po' troppo maleducato le cose sono molto cambiate in fatto di Sosta Libera ma ho quasi finito conclusioni la nostra scelta quindi è stata quella di andare in luoghi un po' più remoti forse meno contaminati dove ammirare la natura abbiamo visitato moltissime città come ti dicevo comportandoci come i classici turisti di chiese però ne abbiamo viste tante e dopo un po' sta cosa diventa pure noiosa nei piccoli paesi invece è più facile conoscere persone del luogo tra l'altro io sono una persona molto socievole quindi vado a pescare faccio amicizia con un altro pescatore in sette anni abbiamo davvero conosciuto moltissime persone e siamo stati amichevolmente adottati da diverse famiglie una in Lituania una in Portogallo una in Grecia insomma uomini e donne che in qualche modo ci hanno offerto la loro ospitalità fornendoci soprattutto informazioni sulla loro nazione alcuni ci hanno invitato a cena o ci hanno fatto riempire i serbatoi delle chiare ma soprattutto ci hanno dato un assaggio di umanità vera e non contaminata dallo stress delle metropoli riassumendo quindi la Sosta Libera certamente è una condizio sine qua non per chi vive da full timer questo soprattutto per ragioni economiche fare Sosta Libera non è sempre semplice perché ci si scontra con leggi non certo condiscendenti con chi vive in camper oppure con pregiudizi o ancora con difficoltà geografiche spaziali e logistiche tra l'altro faremo un video dedicato alla sicurezza in Sosta Libera un po' più avanti per questo non l'abbiamo trattato qui e ora la Libera infine per noi è una questione anche di scelta di vita di approccio di possibilità di vedere situazioni ambienti luoghi che le strutture organizzate non ci consentirebbero di vivere pienamente tieni sempre presenti brutto pezzo da camperista le leggi dei posti in cui vai e cerca di non fare il burino altrimenti ti buco da gomme abbiamo finito se hai domande come al solito scrivicele nei commenti se il video ti è piaciuto faccelo sapere con un like e se non vuoi perderti le prossime uscite tra l'altro ci sarà anche una nuova rubrica di qui a poco attiva la campanellina ciao bello